La mamma dice insulta Nanni, eccoci qua. Sai che mia madre mi ha scritto oggi, anzi mi ha chiamata e mi fa Comunque, quel Nanni Twitch dice un sacco di parolacce. Signora, io sono stato invitato da sua figlia, ospite a Verona, per andare a provare il bollito. Stia attenta, perché se per caso sua figlia dovesse presentarci, io ci proverò con lei. E non sarà la bestemmia la cosa da cui aver paura. No, scherzo, scherzo signora, scherzo, scherzo, non si preoccupi. Bestemmio, ma è stata anche molto fortunata magari non entrare e vedermi vomitarmi addosso Oppure scorreggere sul microfono, anche semplicemente dare delirato o dire che è la mamma di qualcuno in chat all'AIDS. Quindi poteva sicuramente andarle peggio, non si preoccupi.